Ok ragazzi, nel caso in cui questo venerdì sera ci salga la scimmia e decidessimo di fare una cosa inaudita, tipo sentire tre minuti di discorso fatto dal capitano Ibram Taore che comanda la giunta militare del Burkina Faso, che cosa potrebbe mai andare storto? In primo luogo potremmo scoprire che il capitano parla per slogan nei luoghi comuni, russi. Noi ci sentiamo come una famiglia nel senso che per noi la Russia è una famiglia anche per l'Africa. E' una famiglia perché abbiamo la stessa storia. Faccio fatica a crederlo, la Russia fino agli anni 90 è stata parte integrante dell'Unione Sovietica, una superpotenza che ha guidato il blocco comunista per 50-60 anni in opposizione agli Stati Uniti e all'Europa occidentale. Nazioni di tipo un pochino più liberale e certamente democratiche. Il potere in Unione Sovietica era gestito da politici di professione riuniti in un partito e in organizzazioni dette Soviet, che pianificavano tutti gli sviluppi sociali ed economici. Negli anni 90 c'è stata una fortissima crisi economica, ma la Russia è diventata sostanzialmente amica degli Stati Uniti. Ha passato un brutto periodo in cui si parlava letteralmente di politica criminale, perché le bande criminali in stile mafioso gestivano anche spesso e volentieri il potere politico, e poi è arrivato sostanzialmente Vladimir Putin, che ha ricostruito la nazione da una parte e poi l'ha progressivamente portata sui binari di una dittatura fino ad arrivare alla gestione imperialista di oggi. Il Burkina Faso, viceversa, si chiamava Alto Volta fino al 1982, se non vado errato, ed era comunque una colonia francese, divenuta indipendente nel 1960. La base di partenza dovrebbe essere quindi una democrazia di tipo occidentale, anche se poi in realtà il primo presidente liberamente eletto ha cancellato e messo fuori legge tutti gli altri partiti ed è diventato mezzo dittatore, mezzo perché sono generoso. Ed allora nell'Alto Volta, ogni volta che cadeva un governo, c'era una giunta militare nuova. E a un certo punto, per darsi un tono, l'Alto Volta è stato rinominato Burkina Faso, cioè terra degli uomini integri, integerrimi. Tra l'altro i componenti delle giunte militari si sentono dei veri guerrieri, dei maschi alfa con il testosterone a mille, ma diciamoci la verità, hanno combattuto una sola volta per sei giorni quando dovevano risolvere una controversia con il Mali per il controllo di alcuni giacimenti minerari. Viceversa i russi, sia con l'Unione Sovietica, sia dopo il rebranding, improprio di guerre ne hanno fatte molte, ma molte più di voi. Basti pensare alla guerra contro l'Afghanistan, che è praticamente durata dieci anni. Alle guerre cecene e georgiane. Insomma, la storia del Burkina Faso non è neppure lontanamente sovrapponibile con quella della Russia. La Russia ha consentito di enormi sacrifici per liberare il mondo del nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ragazzi, aiutatemi! Dove l'ho già sentita questa storia del combattere i bippisti? Il popolo africano, il mio grande padre, è stato deportato di forza anche per aiutare l'Europa a scegliere del nazismo. I nostri antenati, i nostri nonni, sono stati a loro volta deportati per combattere il bippismo. Ok, e anche questa è una differenza, perché i russi non li ha deportati nessuno per combattere il bippismo. Il bippismo se lo sono trovato sostanzialmente in casa, anche perché fino al giorno prima l'avevano invitato, erano amici. C'era un patto detto Molotov-Ribbentrop con cui i bippisti da una parte e i sovietici dall'altra si sarebbero spartiti la Polonia e la Finlandia. Poi, come ripeto sempre, i sovietici hanno iniziato ad attaccare i finlandesi, i tedeschi hanno visto quanto erano scarsi e un certo tizio con i baffettini da sparviero si è detto Ehi, ma guarda quanto sono scarsi, facciamogli un favore e conquistiamoli, diamogli un nuovo zar, un nuovo re, un nuovo imperatore. Ma gli obiettivi non erano abissini, erano bensì russi. E detto fra parentesi, Stalin e il suo entourage non furono propriamente efficienti nel combattere i bippisti perché letteralmente morirono milionate e milionate di cittadini russi. Se non vado errato, morirono più di 12 milioni di russi durante la Seconda Guerra Mondiale. Viceversa, l'Alto Volta, che sarebbe il tuo Stato, ha contribuito alla Seconda Guerra Mondiale con un esercito di 30.000 persone e ha affrontato i bippisti in Africa, in Italia e da qualche altra parte che non ricordo. A me, sinceramente, la posizione e la storia del Burkina Faso non sembrano neanche lontanamente paragonabili a quelli della Russia. Ma evidentemente qui il nostro Cobra Commander deve trovare assolutamente dei punti di contatto con la grande madre russa per far vedere che sono un'unica grande famiglia. Dire che sostanzialmente la Wagner garantisce il suo potere e la sua poltroncina faceva probabilmente brutto. Noi facciamo parte della stessa famiglia della Russia perché apparteniamo alle persone e agli Stati che sono stati dimenticati dalla storia del mondo. Veramente no! Della Russia ci ricordiamo e come! Pensa che negli anni 90 e anche nei primi del 2000 avevamo riservato ai funzionari russi un ufficio all'interno della Nato e addirittura li consultavamo prima di attivarci. E similmente la Russia ha ereditato dall'Unione Sovietica il potere di veto all'interno dell'ONU. Diciamo che la Russia non è esattamente l'ultima ruota del carro a differenza del Burkina Faso Che si tratti di libri di storia, documentari o film Noi tendiamo a rimuovere e a dimenticare il ruolo chiave della Russia e dell'Africa Nel combattimento contro il bippismo Ma no! Ma non è vero! Della Russia e dell'Unione Sovietica ci ricordiamo e come! Guarda questa immagine diventata iconica rappresenta la vittoria sovietica della battaglia di Berlino E poi se guardi bene vedrai che il soldato sovietico a differenza del tuo antenato indossava due orologi, uno per polso mentre invece verosimilmente il tuo antenato non ne aveva manco uno ma perché i francesi erano un pochino bipardi all'epoca ed erano stati invasi a loro volta dai bippisti E per quanto riguarda il Burkina Faso A distanza di otto anni noi ci dobbiamo confrontare ancora Con la manifestazione più barbarica e più violenta di Di neocolonialismo e dell'imperialismo Già! I russi hanno attaccato senza pietà alcuna l'Ucraina cercando di espandere il loro impero e il loro dominio in territori dove non avrebbero dovuto ficcare i loro stivali Bravo! Il neocolonialismo russo va condannato senza sé e senza ma anche se è tuo familiare L'esclavaggio conta ancora a noi imposer E la schiavitù continua a essere imposta su di noi Che sto dicendo Willis? Noi siamo sorpresi di vedere gli imperialisti Chiamare i nostri VDP come milizia e tutto quest'altro genere di cose Ah! Quindi gli imperialisti saremmo noi occidentali Non la Russia che ha questa politica aggressiva nei confronti degli altri stati Favorendo peraltro in alcuni casi anche colpi di stato per potersi poi insediare come governo ombra Però un consiglio mi permetto di dartelo Cobra Commander Non è che i VDP vengono scambiati per milizie perché sostanzialmente sono una milizia cioè è gente che si arruola in una sottospecie di esercito che non risponde a nessuno Si veste da militare e poi pretende di dettare leggi a tutti gli altri Intendo dire un piccolo equivoco ci potrebbe anche essere E' deludente perché in Europa quando si prendono le armi per difendere la propria patria Si viene trattati da patrioti Si è vero ma noi nelle nostre nazioni europee andiamo a votare ogni 4-5 anni Non indossiamo uniformi militari per fare colpi di stato e amministrare il medesimo stato fino a quando qualche altra persona in uniforme militare fa cadere il governo precedente Ecco ci sarebbero queste due piccole differenze Inoltre noi i VPPisti li combattiamo utilizzando militari, polizia e quello che si può Viceversa tu i VPPisti li hai combattuti assumendo il governo del tuo paese senza libere elezioni Ci sono questi piccoli dettagli I nostri patrioti si sono sempre battuti affinché il popolo fosse rappresentato dal governo Mentre invece tu ti sei sempre battuto perché tu fossi il governo Se lo dici tu che non è un problema ti credo Le elezioni sono naturalmente sopravvalutate, largamente sopravvalutate In Russia per esempio li vince sempre Putin a prescindere da quello che combina o non combina Il problema sono i capi di stato africani I quali non supportano le persone che stanno combattendo Ma che cantano la stessa cosa che gli imperialisti E che cantano al tempo e con la musica degli imperialisti E ci chiamano milizia E niente raga, probabilmente lo potete chiamare in mille modi denigratori diversi Fra cui è anche figlio di... Ma niente, l'unica cosa che lo offende è sentirsi chiamare milizia Ma intendo dire, se non vuoi farti chiamare milizia Potresti iniziare a cambiare un pochino il tuo outfit Perché probabilmente equivochiamo noi imperialisti brutti, cattivi, occidentali Quindi anche un po' puzzoni Però tu stai indossando un uniforme militare E peraltro guarda che io ho visto le tue foto a tutti gli incontri Hai sempre quella addosso Cioè saranno anche capi di abbigliamento diversi Ma sono tutti uguali Potresti cambiare l'abito Che so, prenderti un completino rosa Prima di andare a portare tua figlia a vedere Barbie Così inizieresti ad avere anche un aspetto multidimensionale Rispetto all'immagine piatta del miliziano Poi intendo dire Se oltre a non indossare un uniforme militare Magari faresti in modo che in Burkina Faso ci fossero libere elezioni Con tutti i partiti che vogliono partecipare Non sarebbe una cattiva idea Ecco, e potrebbe aiutare anche a scrollare Quell'immagine militarista che ti trascini addosso insieme alla tua uniforme Da uomini che non rispettano i diritti umani Cioè, fammi capire Noi occidentali non rispetteremmo i diritti umani Mentre invece Vladimir Putin Che dirige una nazione Dove se tua figlia si azzarda a fare un disegno pacifista Tu che sei il genitore finisci in carcere per due anni Rispetterebbe i diritti umani? Ma sei serio? Noi capi di stato africani dobbiamo smetterla di ballare Non appena gli imperialisti tirano le stringhe No, guarda Credo che tu abbia fatto confusione Fra due figure retoriche diverse O metafore diverse Intendo dire I fili, le stringhe Si tirano per i burattini I quali però non ballano Recitano, ecco Mentre invece si balla al suono della musica Quindi avresti dovuto dire qualcosa del tipo Si muovono al ritmo degli imperialisti Che tirano i fili O in alternativa Si muovono al ritmo della musica suonata dagli imperialisti Ma così mi stai mischiando due favole diverse Mi stai mischiando Pinocchio da una parte E il pifferaio magico dall'altra Poi alla Disney Si imbippano a bestia Ieri il presidente Vladimir Putin ha affermato Che avrebbe mandato del grano gratis in Africa E noi gliene siamo profondamente grati Guarda che così passi per burattino degli imperialisti Non è che appena un imperialista dice qualcosa Tu devi essere lì a pecoronato Danneggia la tua immagine E poi non per dirla tutta Ma quel grano non te lo regala In cambio gli hai lasciato delle concessioni minerarie Per estrarre oro Lui ti dà un po' di grano E si porta via l'oro E inoltre Vlad ti sta anche fregando sul peso Perché gratis ti darà fra le 25.000 e le 50.000 tonnellate Non ti bastano neanche per una settimana Ma è anche un messaggio per tutti gli altri capi di Stato africani Perché noi dal prossimo forum non possiamo tornare qui senza Senza assicurazione che le persone abbiano abbastanza cibo per sfamarsi E dobbiamo costruire delle buone relazioni con la federazione russa Per soddisfare i bisogni della nostra gente Giova ma secondo te questo qui ci crede davvero? No perché è fenomenale ragazzi E lì tutto bello impettito Noi siamo il meglio del meglio Non siamo la milizia Raggiungeremo l'autosufficienza alimentare Ma quale autosufficienza pensi di poter raggiungere? Putin ti regala fra i 25.000 e le 50.000 tonnellate di cereali Tu da solo nel tuo paese produci qualcosa tipo 300.000 tonnellate di riso E quelle 300.000 tonnellate di riso Non sto parlando degli altri cereali Come il grano, il mais e tutto il resto che ti serve Non coprono neanche un terzo del fabbisogno di riso della tua nazione Fai un attimino le proporzioni Le 25.000-50.000 tonnellate che Putin ti gira A cosa ti servono? Ti servono al massimo se devi sfamare te, la tua famiglia e qualche amico Ma non risolvi il problema della tua nazione in questo modo qui Peraltro, altra cosa che trovo tristemente divertente E il fatto che questo tizio, Cobra Commander Va in giro a petto in fuori, pancia in dentro Orgogliosissimo dell'amicizia con la Russia Ebbene, negli ultimi due anni Il prezzo del cibo in Burkina Faso è quasi raddoppiato È aumentato dell'80% in due anni E stiamo parlando di una popolazione che è molto, molto povera Raddoppiare il costo del cibo nell'arco di due anni Significa far fare la fame, quando si ha fortuna, a tante, tante persone Dov'è l'amicizia profonda e sincera con il tuo fornitore? Dov'è? Vittoria ai nostri pochi La patria o la morte non vincere Grazie, camarada Vittoria ai nostri popoli Patria o morte Andrà tutto bene, camerati o compagni Forse più compagni che camerati Però, insomma, stiamo parlando di questa roba qua Intendo dire Parla in questo modo qui E poi si stupisce che qualcuno in Occidente Dice che fa parte di una giunta militare Non vedo come sia possibile equivocare A proposito, mi permetto di darti qualche piccolo consiglio Se hai intenzione di menarla con la sovranità alimentare Sei nel posto giusto D'altronde indossi un uniforme Ma normalmente la tua nazione spende il doppio in armi di quanto investi in agricoltura Quindi da una parte ti prendi dei giocattolini perfettamente inutili I fucili che hai acquistato quest'anno sparano esattamente come quelli dell'anno scorso Lo so, è un trauma È brutto a dirsi, ma è la realtà E peraltro non hai neanche così tanti nemici da combattere A voler essere pignolo Ne ho di più io Diciamoci le cose come stanno Seconda cosa Se tu non investi in agricoltura È chiaro che non riuscirai mai a sfamare il tuo popolo Quindi, nem, datti una regolata E soprattutto stai attento alle cattive compagnie Vladi è uno dritto È tagliato Ma non come te che hai le cicatrici così Lui è tagliato così Capisce a me? Sì, parlo anche lingue straniere Non stupitevi Sono un uomo di mondo E voi che cosa ne pensate? Il lavaggio del cervello Che i russi praticano agli altri capi di stato africani È reversibile? Oppure dobbiamo rassegnarci Ad avere un'Africa Che è parzialmente controllata dalla Russia Come sempre, fatemelo sapere Lasciando scritto qualcosa qui sotto Se poi vi piacciono i miei video Ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanella Condividere i video che vi piacciono con gli amici E mettere un like Per voi si tratta solo di due o tre clic Ma per il canale significa molto Come sempre, grazie di tutto per tutto E a presto Sì, lo so Manca la minaccia finale Ma cosa volete che vi dica? Che potremmo ritrovarci come ministro per l'agricoltura Un tipo così fra 20 o 30 anni? Ve lo dico Ma ripeto Regolatevi voi E aiutate il canale a ingrandirsi Se no, cobra commander Ce lo ritroviamo nel nostro governo Io vi ho avvisati Come sempre, grazie di tutto per tutto E a presto